Gesù disse questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio scacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno i mani dei serpenti anche se verranno qualche veleno non ne avranno alcun male imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno marco 16 verso 17 il battesimo nello spirito santo è un'esperienza autentica ed indiscutibile per quanti sono nati di nuovo in cristo gesù centinaia di milioni di credenti ne sono stati e ne sono protagonisti e testimoni come la salvezza anche il battesimo nello spirito santo è un lascito gratuito testamentario di gesù cristo esso non c'entra nulla col battesimo d'acqua il quale testimonia la propria resurrezione nuova nascita come già risuscitò cristo gesù dalla lettura del testo biblico troviamo due lasciti testamentari di gesù la salvezza per grazia e le lingue nuove come nati di nuovo ci si battezza prima pietro 3 versi da 15 a 22 come nati di nuovo si chiede al signore il battesimo nello spirito santo che non parla di purificazione ma di potenza per essere testimoni di cristo nel mondo la purificazione è già stata ricevuta dal sangue di gesù cristo giovanni 1 verso 29 matteo 26 verso 28 romani 3 verso 25 romani 5 verso 9 e fisini 1 verso 7 ebrei 9 verso 12 e via discorrendo queste tre cose durano fede speranza e amore prima corinzi 13 verso 13 ma pur procacciando tali cose non tralasciate però di ricercare i doni spirituali prima corinzi 14 verso 1 i doni spirituali sono indispensabili per edificare esortare consolare prima corinzi 14 verso 3 e sa qualcosa chi ha cercato in vano di edificare senza possederli in vano si sono affaticati quando dio non ha edificato salmo 127 verso 1 così anche voi poiché siete desiderosi di doni spirituali cercate di abbondarne per l'edificazione della chiesa prima corinzi 14 verso 12 essere riempiti col fuoco dello spirito santo significa diventare capaci di testimoniare la propria diversità dal mondo e la propria identità con cristo gesù significa non tirarsi indietro con vergogna paura timidezza incertezza e indecisione ogni volta che lo spirito santo ci chiede di lavorare tra virgolette con lui significa essere sensibile alla voce del signore che ci parla col suo santo spirito significa saper pregare come dio vuole e saperlo fare dovunque con chiunque atti 12 verso 12 gli apostoli paolo e sila nella prigione di filippi pregavano e cantavano inni atti 16 verso 25 5